Improvviso scoppio di materiale pirotecnico presso la ditta di fuochi d'artificio che opera nel comune di Vatolla di Perdifumo. Il titolare stava maneggiando dei materiali pirotecnici che, mischiandosi tra loro, hanno provocato una reazione chimica da procurargli delle ustioni a un arto inferiore e delle echimosi superficiali in altre parti del corpo. Sul posto è immediato l'intervento dei sanitari dell'Associazione Givi del South 118 di Castellabate e i carabinieri della locale stazione. L'uomo è rimasto ferito in seguito ad una reazione chimica che gli ha provocato delle ustioni sul 15% del corpo. Prontamente soccorso e trasferito in heliambulanza al Cardarelli di Napoli non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.